Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, chiede buonsenso e ragionevolezza a tutti i partiti della sua maggioranza per la composizione del nuovo esecutivo regionale. Proprio ieri in tv, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito che in Abruzzo si deve far presto per la composizione della nuova giunta per poter avviare quel processo di cambiamento chiesto dagli elettori lo scorso 10 febbraio. Vogliamo cominciare a lavorare? Non è possibile che si stia perdendo tempo perché c'è qualche partito che sta litigando per un assessore in più o in meno. Ogni riferimento a Forza Italia è puramente casuale. Gli abruzzesi meritano una giunta che cominci a lavorare domani mattina rispettando il voto degli elettori. Salvini, come è noto, vuole che quattro assessori ed il presidente del Consiglio regionale siano espressione del suo partito. Scelta questa che lascerebbe a Forza Italia la possibilità di indicare un solo assessore. Salvini è stato molto chiaro. Vuole quattro assessori e la presidenza del Consiglio regionale. Si crea qualche problema con Forza Italia? Io sulla giunta sto ragionando con tutti i partiti e penso che se tutti i partiti dimostreranno buon senso e ragionevolezza, io sono intenzionato a rispettare i pesi e i ruoli di tutti. Aspica che Pagano faccia un passo indietro e che sia contenti di un unico esponente nell'esecutivo regionale? Io aspico che tutti facciamo passi avanti. E proprio stamani il consigliere regionale del partito azzurro Mauro Febbo, a margine di una conferenza stampa convocata a Pescara sui conti della sanità abruzzese, ha ribadito che al suo partito, manuale e cencelli alla mano, spettano due postazioni. Non due assessori, ma ha ribadito due postazioni. In mancanza di tale disponibilità, ha sottolineato Febbo, Forza Italia potrebbe adottare una decisione clamorosa. Ma tenuto a precisare, ci sono ancora a disposizione diversi giorni per potersi confrontare con gli alleati e giungere ad una soluzione positiva. Per varare il nuovo esecutivo regionale, aggiunti infine il presidente Marco Marsilio, occorrerà il tempo necessario per fare una cosa equilibrata. Il tempo necessario, nel più breve tempo possibile, ma è il tempo necessario per fare una cosa equilibrata.